Funziona questo microfono? Adesso sì, lo sento. Buongiorno a tutti, cerchiamo di iniziare puntuale perché in virtù dell'esperienza di ieri abbiamo visto che poi le persone entrano, vanno via, ma in modo che abbiamo il tempo a disposizione in termini massimi. Anche perché secondo me il tema affrontato oggi è un tema centrale, non tanto per il Paese, ma riscuotere fiducia e avere una buona reputazione per la statistica ufficiale fa parte delle condizioni della sua configurazione della struttura centrale. E' un tema centrale proprio perché per essere credibile, avere fiducia, buona reputazione, voi sapete che la statistica deve comunicare, deve comprendere di essere imparziale, trasparente, svincolata da interessi di parte. E dal punto di vista scientifico totalmente autonomo. Noi su questo, diciamo, per poter mantenere, perché questa immagine abbiamo investito negli anni, rendendo fra l'altro pubblici anche quelli che noi chiamiamo in qualche modo dei cosiddetti comportamenti etici, che mi sono qui scritta perché li vorrei ricordare tutti, perché ci ho pensato quando li abbiamo scritti, la coerenza delle scelte operate, la puntualità delle diffusioni, la piena trasparenza dei processi, regole e metodologie adottate, un'offerta informativa, tempestiva e adeguata alle esigenze degli utenti, degli utilizzatori. Perché sono partita da questa cosa qui? Perché questi sono appunto, in qualche modo, i comportamenti che nel corso del tempo noi abbiamo non soltanto praticato, ma in qualche modo abbiamo fatto in modo, con meta informazioni, con proprio la comunicazione, in questo ha avuto un ruolo centrale, per fare in modo che i rispondenti e gli utilizzatori di dati avessero questo tipo, come dire, di controllo, fra virgolette, su quella che è la nostra attività. Per poter fare arrivare queste informazioni noi abbiamo investito da sempre, devo dire in modo particolare, negli ultimi vent'anni, nel senso usando al massimo quelli che erano i canali di comunicazione e adeguandosi nel tempo a quelli che erano i canali che andavano utilizzati. Perché l'altro problema nostro è proprio questo, noi parliamo a tutto il Paese, lavoriamo per tutto il Paese, per cui dobbiamo arrivare al Paese, dobbiamo arrivare nei luoghi dove sono gli utenti e i cittadini. E mi pare evidente che ormai con i social, con le piattaforme partecipative, con l'avvento, questa rivoluzione, questa social revolution che c'è stata nei social, è stato evidente che anche noi ci siamo posti il problema, in qualche modo di stare nei social, di essere presenti, di comunicare sui social e anche in qualche modo fare una riflessione su come starci e come agire. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di definire una politica, una policy della nostra presenza, perché questo lo fanno un po' tutti, non è che ci siamo inventati niente, però in qualche modo abbiamo cercato di fare una policy anche adeguata al tipo di offerta che davamo e al tipo di comunicazione che andavamo facendo. Però dobbiamo dire che l'orizzontalità della rete, l'interconnessione, le caratteristiche stesse della rete, dove chiunque parla in qualche modo è una voce che può essere ascoltata, anzi spesso, il discorso appunto del sensazionalismo, in questi giorni, ieri abbiamo molto riflettuto sul fatto che poi qual è uno dei problemi della rete, lo dico perché in termini anche degli argomenti di oggi è importante, è che in realtà poi si naviga sulla rete più per cercare certezza a quello che si pensa, per cercare in qualche modo una conferma, che per andare a cercare la verità o come dire l'informazione più corretta che si vuole avere. E in virtù di questo noi stando nella rete ci siamo posti anche un problema che è quello per noi fondamentale anche di tutela della e-reputation e di quello che è appunto di tutela del brand. E' per questo che dicevo che il tema di oggi per noi è assolutamente centrale, anzi io reputo questo incontro uno dei contri più importanti dal punto di vista diciamo proprio di quelle che sono le problematiche di brand, ma non dell'Istat, parlo in generale di un istituto nazionale di statistica e mi posso permettere di dire anche più in generale di una pubblica amministrazione perché noi in maniera diciamo anovola produciamo informazione al servizio dei cittadini, una pubblica amministrazione però fornisce servizi, come dire, forse ha più di noi il problema di cercare consenso, noi più che consenso dobbiamo proprio cercare la fiducia e questo è un elemento fondamentale. Allora perché questi ospiti? Per diciamo una serie di motivi insomma, ecco. Qui accanto ho Francesco Di Costanzo che ho invitato perché è un uomo di rete, diciamo, un uomo che si intende di rete ma un uomo che si occupa di fare rete. In qualche modo Francesco, noi siamo debitori a lui perché per esempio ha, come dire, è stato uno degli animatori di PaSocial. Per chi non lavora nella comunicazione forse PaSocial può dire poco o niente ma è invece l'Associazione Nazionale per la Nuova Comunicazione, la nuova comunicazione della pubblica amministrazione ed è stata una cosa importante perché questa cosa sta funzionando anche fra di noi nel veicolare le informazioni in maniera corretta, nel qualche modo, come dire, darci visibilità ma per finalità istituzionali, non visibilità per ragioni di mercato anche perché noi non vendiamo niente, anzi vendiamo informazioni, diamo informazioni su servizi per cui questo, diciamo, è quello che in qualche modo ci permette di fare cartello perché è un cartello in qualche modo nobile, non è un cartello di quelli appunto sconsiderati o poco etici per non usare altri termini. Francesco Ricostanza appunto ha fatto il Presidente dell'Associazione PaSocial, ha lavorato sempre in questi ambiti, ha fatto tantissime cose, talmente tante che io mi fermerai qui su questa cosa, poi se vuoi aggiungere perché ha scritto libri, tutti loro hanno scritto, fatto, fondato, eccetera, che devo dire, che ne so, cittadini di Twitter, la nuova comunicazione nei servizi locali, Whatsapp in città, la nuova frontiera della comunicazione pubblica, io ho paura poi di aver scritto tutto per cui di fare una brutta figura, però ha scritto tantissimo, ma la cosa più importante è che ha fatto tantissimo per la comunicazione pubblica e credetemi che questo, insomma, non è una cosa così, diciamo, diffusa. Poi abbiamo appunto Vincenzo Cosenza accanto a Francesco, Vincenzo Cosenza è anche lui, diciamo, è una persona che si è occupata abbastanza presto di digital e più che altro appunto di pubbliche relazioni nei digital. Ecco, l'altra cosa che volevo dire per quanto riguarda Francesco, mi sono dimenticata, è che una caratteristica che accomuna almeno noi tre, Nicola, Francesco e la sottoscritta, che oltre ad aver fatto una professione giornalistica e una professione da comunicatori, abbiamo anche svolto dei ruoli istituzionali perché abbiamo fatto portavoci di ministri, sottosegretari o presidenti di regione. Questo ve lo dico perché abbiamo avuto responsabilità, come dire, importanti all'interno di istituzioni e anche della comunicazione di un'istituzione, gestito crisi, e gestito tantissime cose. Tornando a Vincenzo appunto si è occupato di digital, si è occupato di, diciamo, anche per agenzie importanti di public relations, di public affairs, insomma, ha fatto un'attività per cui molto legata alle pubbliche relazioni in funzione proprio del consolidamento della formazione di una buona veicolazione del brand. Attualmente è il capo, è il responsabile del marketing Italy di Buzul, Basul, che è un'azienda influencer del marketing, cioè un'azienda appunto che studia gli utenti, studia quello che pensano e anche appunto si occupa pure di quella che è il posizionamento di un marchio all'interno di, oppure quelli che sono i bisogni, diciamo, degli utenti. L'altra cosa importante che volevo segnalare di Vincenzo è il discorso appunto che, oltre ad aver collaborato dei giornali e vari giornali, è che ha aperto il primo osservatorio Facebook italiano, giusto? Che anche questo, diciamo, è stato un passaggio abbastanza importante. Finisco con Nicola, che come tutte le persone che si conoscono di più, più direttamente se amici, vi sono preparata un appunto che è di quattro righe sulla tua biografia, per cui sarai penalizzato perché naturalmente è un classico questo. Comunque Nicola è un giornalista che sta su piazza da moltissimi anni, ha fatto praticamente di tutto di più perché ha fatto giornali, televisione, non so se ha fatto radio, radio non mi risulta perlomeno, ha fatto appunto il lavoro di comunicatore istituzionale, insegna brand journalism all'Università La Sapienza di Roma e ultimamente ha scritto un libro che ha riscosso un estremo interesse del settore, spero che sia stato anche un successo di vendita e questo non lo so, speriamo, che si chiama manuale di disobbidenza digitale, insomma, in cui se ne è parlato molto, insomma, io ho visto per esempio la registrazione dove Nicola è stata la Gruber, dove secondo me è stato bravissimo per raccontare ad un pubblico così ampio come quello televisivo, in qualche modo, che cosa c'è scritto in questo libro. Allora, comincerei con una prima domanda a Francesco, che mi ero segnata qui. Ecco, ed è questo. Allora, visto che tu, per il lavoro anche che hai fatto rispetto a Pai Social, hai fatto, diciamo, come dire, anche una riflessione alla comunicazione, quella pubblica, eccetera, e in particolare adesso parliamo di deputazione e fiducia, te la dico così secca, perché forse ho fatto una presentazione lunga, quali strategie deve usare, a tuo avviso, un'amministrazione pubblica e poi specificatamente, se hai fatto una riflessione in vista di questo invito, un istituto nazionale di statistica, per aumentare la propria fiducia e reputazione da parte di cittadini, lo so che è un domandone da consulente a cui gli si danno 100.000 euro, però dacci due o tre indicazioni perlomeno. No, ci mancheremo. Innanzitutto ti ringrazio e vi ringrazio come Istat per l'invito e anche per il fatto, lo dico con grande onestà, perché si vede che c'è stato un lavoro dietro a quello che fate sui social, nel senso un percorso, come dire, in cui ci avete messo passione e voglia di fare. Quindi su questo vi faccio i complimenti e poi vi ringrazio anche perché l'Istat ha partecipato all'inizio di tutto quello che poi è stato Pia Social, perché a novembre del 2015, quando abbiamo fatto i primi stati generali della nuova comunicazione pubblica a Palazzo Chigi, c'era anche l'Istat con un intervento e quindi appunto tu dicevi siamo tutti Pia Social, questo mi fa piacere, ma l'Istat c'è stato fin dall'inizio. Poi, come tu hai detto, il cammino è andato avanti e poi è arrivata l'Associazione Nazionale e insomma tante cose che poi ora magari non c'è il tempo di raccontare. Per quello che mi hai chiesto io ti rispondo magari anche in modo un po' banale, ma secondo me è la cosa fondamentale. Innanzitutto la prima cosa è esserci, perché questa era una cosa non banale fino a due o tre anni fa, nel senso che la prima parte anche del nostro lavoro è stata far capire che la Pia e in generale il settore pubblico dovevano stare dove sono i cittadini. Cosa banalissima, penso, però non lo era affatto nelle Pia e ci è voluto del tempo per arrivarci. Quindi già il fatto di esserci sui social network e in generale sui nuovi strumenti è già un punto di valore. Ovviamente questo è anche il fatto di ammettere per quelli che avevano dei dubbi e arrivarci finalmente per quelli come noi che lo sostenevano da tempo il fatto che questi sono strumenti di gioco, passatempo, quello che volete, ma soprattutto straordinari strumenti di servizio pubblico. Ognuno con le sue specifiche, con le sue potenzialità, funzionalità e poi loro sono anche più bravi di me, vi spiegheranno anche quella parte lì. Però questo era il primo punto e su questo se posso do una notizia positiva, cioè che siamo andati oltre. Questo è acquisito, la consapevolezza dell'utilità di questi strumenti per il settore pubblico in generale, quindi piazze, aziende pubbliche, musei e tutto quello che vi viene in mente, è ormai acquisito. Quindi oggi, e passiamo al punto 2 rispetto alla tua domanda, si lavora su come starci. Non solo esserci, ma come starci. Quindi dalla quantità su cui abbiamo spinto molto anche noi. Quindi noi nella prima parte il nostro lavoro abbiamo spinto perché i ministeri, la presidenza del Consiglio, i comuni, le regioni e via dicendo arrivassero sui social network. Oggi che onestamente abbiamo un quadro molto migliore da questo punto di vista, cioè voi la maggioranza degli enti pubblici li trovate sui social network. Non su tutti, ognuno sceglie poi quello che preferisce, però li trovate. Oggi dobbiamo lavorare sulla qualità di questo lavoro. Quindi su come stiamo su questi mezzi, su quale linguaggio utilizziamo, su come gestiamo il dialogo con i cittadini, con quale interazione. Sulle social media policy tu dicevi che è una cosa quasi scontata. Anche questo non lo è, perché non tutti le fanno, non tutti ci hanno messo la testa sopra sulla parte delle social media policy che sono fondamentali, non solo poi anche su tutto il discorso, la privacy e le varie normative, ma proprio perché è, come dire, ci mettiamo d'accordo con i cittadini su quale rapporto dobbiamo avere su Facebook, su Twitter, insomma sui social network in generale. Quindi la parte della qualità oggi è prioritaria. E punto terzo della mia risposta è perché le ormai mitiche fake news, e quindi anche un po' troppo mitiche, nel senso che se ne parla probabilmente anche troppo e a volte anche a sproposito, perché poi le fake news sono sempre esistite, diciamo che sono cambiati gli strumenti e la forza di questi strumenti. E anche il fatto che ovviamente chiunque oggi su un social network può raccontare la sua storia, diciamo così, e dire la propria. Però anche lì noi, e per noi intendo i comunicatori, i giornalisti, nuove professioni, quindi social media manager, chi analizza i dati, visual design, open data, community organizer, insomma tantissime professioni che sono venute fuori grazie al digitale e nel mio caso soprattutto grazie alla nuova comunicazione. Cioè lì noi abbiamo una grande responsabilità, cioè usare questi strumenti e sfruttarne, usarli bene e sfruttarne la potenzialità positiva. Perché la fake news ha la stessa forza nostra in questo senso, cioè sfrutta quelle potenzialità in negativo. Noi dobbiamo fare un grande lavoro sfruttando la parte positiva di questi strumenti, perché sono sempre gli stessi, non è che sulla fake news sono forti e virali e via dicendo e su quando si parla in positivo non funzionano. Quindi bisogna saperli usare bene e quindi c'è tutto un tema, e non la faccio troppo lunga, su cui noi stiamo lavorando molto, di nuove professionalità, di riorganizzazione delle PA per dare un servizio su questi strumenti, perché poi quando io vado a rispondere ad esempio a un cittadino su Twitter in quel momento sto facendo un sacco di cose, faccio l'ufficio stampa, faccio l'ufficio comunicazione, faccio trasparenza, faccio l'URP, faccio in alcuni casi l'organizzazione di eventi, tutte cose che come molti di voi sapranno nella nostra PA sono sparpagliate in vari uffici che spesso neanche si parlano. Quindi come dire, c'è veramente un grande lavoro, prima di tutto culturale, ma poi organizzativo, di nuove professioni, per poi rispondere a quello che dicevi te. Quindi credo che anche un istituto nazionale di statistica debba puntare su dei linguaggi nuovi, sul avere professionalità dedicate per questi strumenti e appunto sfruttare le potenzialità positive di questi strumenti per far passare i messaggi giusti e far sì che il cittadino quando gli viene in mente che si vuole informare o ha bisogno di qualcosa che riguarda voi, come tutte le altre PA, entri in questa magma di mille e altre informazioni e sappia riconoscere, grazie anche a un utilizzo fatto bene da parte vostra degli strumenti, sappia riconoscere qual è la notizia o l'informazione corretta. Grazie. Allora Vincenzo, Vincenzo Cosenza, in virtù proprio anche di questo nuovo incarico che hai, insomma, importante, secondo me, insomma, su cui ci vogliono tantissimi strumenti per poterlo fare. Ecco, quello che ti voglio dire è questo, come si può, ci dai una mano, un suggerimento per misurare la fiducia, la reputazione o per capire un po' come, cosa pensano gli utenti? Tu che fai tutti i giorni per... perché questo è il tuo lavoro, no? Tutti i giorni devi dire, si pensa questo, bisogna puntare su quest'altro. In parte sì, è questo, o meglio, questa è l'attività che facevo a tempo pieno fino a qualche mese fa in un'azienda che si chiama Blog Meter, che si occupa proprio appunto di ascolto degli strumenti per l'ascolto della rete. E proprio l'ascolto, secondo me, è un tema fondamentale, ma spesso il più sottovalutato quando si crea una strategia di comunicazione. Si pensa di sapere quello che in rete si dice di noi, della nostra azienda, di come la pensano i cittadini. In realtà poi la rete riserva più sorprese di quello che si potrebbe pensare perché noi abbiamo una visione molto miope, dovuta un po' anche a quelle bolle informative di cui Nicola poi parla anche nel suo libro. Quindi abbiamo una visione che è ristretta al nostro network, quindi a quello che il nostro network condivide in rete. Ecco, proprio l'utilizzo di strumenti invece di ascolto della rete, di tool specifici di ascolto della rete, può aprirci un po' gli orizzonti della comprensione e può farci capire davvero quello di cui le persone parlano, quali sono magari oltre ai problemi, le difficoltà, quello che vorrebbero approfondire di più e quindi vorrebbero sapere da una pubblica amministrazione. Ovvio che questi strumenti sono strumenti per lo più professionali e quindi ovviamente hanno un costo. Al momento molti utilizzano il classico modo per iniziare a fare ascolto è il Google News, che è uno strumento però molto limitato in quanto ha un campo o raggio d'azione che si limita a quelle che sono le testate più lette e quindi si perde completamente tutta quella comunicazione tra pari che avviene nella rete, quindi su Twitter per esempio, su Facebook, mentre uno strumento professionale di ascolto della rete, che poi ha costi anche diciamo così abbordabili dai 200 euro in su al mese, permette davvero di buttare un primo occhio alle conversazioni degli italiani in rete e questo è fondamentale perché ormai tutti i dati ci dicono che le persone che in rete comunque condividono cose, gli italiani che in rete condividono cose sono tantissimi, almeno metà della popolazione. Pensate che Facebook ormai in Italia ha un 30 milioni di utenti attivi ogni mese, gente che ogni mese entra, fa qualcosa, legge qualcosa, legge qualche informazione, quindi 30 milioni è un numero importante, su una copertura della popolazione molto ampia, quindi si va dai giovanissimi fino ormai alle persone più avanti con l'età. YouTube è un altro di quegli strumenti molto sottovalutati oggi, attraverso YouTube passa tantissima informazione, anche magari falsa informazione, ma questo come diceva punto Francesco è uno dei motivi per spingerci ad essere anche lì in qualche modo, con una presenza attiva, con una presenza invece reattiva, questo ogni azienda potrà deciderlo ma YouTube è un altro campo interessante in cui persone come noi, ragazzini, quelli che oggi adesso chiamiamo youtuber, chiamiamo influencer, che è il campo di cui mi occupo ora, molto spesso fanno informazione anche sui temi di attualità, ci sono ragazzi di 20-25 anni che hanno canali molto seguiti che ogni giorno commentano i fatti della politica dell'attualità, attraverso il loro punto di vista chiaramente, che può essere condivisibile o meno, e aggregano milioni, migliaia di commenti, ma anche milioni di persone, di italiani che li seguono, quindi avere un'attenzione particolare a questo mondo e a questi nuovi influencer oggi diventa fondamentale. Aggiungo Instagram perché Instagram è quello che negli ultimi anni ha avuto il balzo maggiore in termini di utenza, Instagram dai miei studi in Italia ha qualcosa come 16 milioni di utenti attivi al mese. Per contrasto il dato di Twitter è di 7 milioni di italiani al mese, noi diamo molto risalto al Twitter perché chiaramente l'informazione di Twitter è un po' più vicina al nostro mondo e magari rimbalza sui giornali, ma ormai rimbalza sui giornali anche Instagram, pensiamo alle foto che ormai i politici sono soliti farsi ovunque in giro per l'Italia. Twitter è un classico social network, dal mio punto di vista, sopravvalutato in termini di impatto che poi ha davvero sull'informazione delle persone, mentre ce ne sono altri, come vi ho detto, che sono molto più utilizzati. Quindi il concetto è ritorno all'ascolto prima dell'azione come buona pratica di approccio alla comunicazione. Io mi ricordo stato anche penso il primo in Italia con gli strumenti che avevamo di Blogmeter a monitorare ormai più di sei anni fa il livello di partecipazione delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali, locali sui canali Facebook, Twitter all'epoca e il livello era veramente drammatico. Ora nel corso del tempo sicuramente, come diceva Francesco, la presenza è molto migliorata e si deve lavorare un po' sulla qualità, ma soprattutto sulla risposta al cittadino, perché al momento molto spesso si limita a una fase di comunicazione top down è comunque unidirezionale, mentre molto lavoro potrebbe essere fatto nelle risposte. Mi rendo conto che è molto complicato e richiede tante risorse, ma è un secondo step che si potrebbe fare. Grazie Vincenzo. Allora Nicola chiede una cosa. Noi per esempio abbiamo scelto già da abbastanza tempo di interagire con i nostri utenti, praticamente, di esserci in maniera attiva. Ecco, a Zamperini chiedo una cosa semplice, secca. Come si sta correttamente dentro i social, dentro i vari social, insomma? Una domanda da 100 pistole questa, una domanda. Parlo correttamente rispetto al tema, cioè fiducia e reputazione, non correttamente rispetto al discorso per esempio di essere, come dire, di avere milioni di... cioè, rispetto al tema. Ecco, qual è il modo giusto di stare su quelli che sono i canali principali? Un esempio semplice. E' chiaro che siamo a casa dell'oste, quindi uno dovrebbe dire che il vino è buono. Il canale Twitter dell'Istat, secondo me, è un canale, per esempio, che fa alla perfezione il mestiere che deve fare un canale di Twitter, di un'amministrazione pubblica. E lo fa con la logica che descriveva poco fa Vincenzo Cosenza, che è la logica di Twitter, che è dal punto di vista dell'ampiezza in termini di popolazione che sta all'interno di questa rete, un'ampiezza più limitata. Però, essendo Twitter un information network, che cosa fa l'Istat? Scandisce, diciamo così, come scandisce nella vita pubblica del Paese, con i suoi dati, una serie di momenti con notizie, e sono le notizie che, diciamo così, rispetto alle quali noi giornalisti, quando io facevo il giornalista, adesso mi sono disintossicato e ho smesso, e ci abbeveriamo. Io però provo a fare un passo in avanti rispetto a quello che dicevano loro. A settembre uscirà il libro di un tizio che non conoscevo, che si chiama Bobby Duffy, che lavora per l'Ipsos inglese, che si chiama I pericoli della percezione, il cui sottotitolo è che abbiamo torto quasi su tutto. Cioè, le convinzioni delle persone rispetto a qualunque fatto dell'esistenza, diciamo così, per buona parte sono sbagliate. E' uscita una ricerca negli Stati Uniti del Pew Research Center che diceva che due americani su tre non sanno distinguere un fatto da un'opinione, per dirne una. Potremmo metterne in fila tanti, no? Parliamo spesso di analfabetismo funzionale in Italia, eccetera, eccetera. Che cosa voglio dire? che i fatti non bastano più, cioè non sono più sufficienti. Perché il lavoro che noi dobbiamo fare è un lavoro che va, diciamo così, nell'altro emisfero del nostro cervello. Sergei Brin una volta ha detto che voleva che Google fosse la terza metà del cervello delle persone, ok? Allora, i fatti stanno nella componente razionale delle relazioni che le istituzioni mettono in campo con le comunità. Però, siccome i fatti non sono più sufficienti, che cosa facciamo? Allora, io credo che noi dobbiamo cominciare a, diciamo così, aprire il campo e confrontarci col fatto che alcune istituzioni debbano avere la consapevolezza che, per esempio Facebook, per esempio Instagram, cioè i social network non propriamente informativi, sono lo spazio delle nostre emozioni. Perché gli utenti lì dentro intrecciano relazioni e queste relazioni corrono su un filo che è un filo, come dire, molto chiaro, molto evidente. Cioè, si condividono cose perché ci sono delle emozioni. Non è un caso che il like, per dire su Instagram, ha, diciamo così, la forma del cuore. Non è un caso che Zuckerberg ha introdotto le reazioni all'interno di Facebook. Cioè, non c'è solo il mi piace. Il mi piace è una delle possibilità che si somma ad altre sei. Sono triste, sono arrabbiato, anche qui metto il cuore, rido e via dicendo. Allora, se questo è lo spazio delle emozioni, secondo me è la sfida più alta, che è una sfida tutta da scrivere per le pubbliche amministrazioni, è la sfida in cui i comunicatori e gli scienziati, siamo all'Istat, i comunicatori e gli statistici, aprono un negoziato in cui il terreno di confronto è emozioni da una parte, numeri dall'altra. Cioè, dove questo confronto poi può generare un output comunicativo di un certo livello? Non è una cosa facile. No, perché chiaramente i numeri stanno da un'altra parte. Però se noi vogliamo stare lì dentro, come ci diceva Francesco, a prescindere dalle metriche e cercando di andare oltre le metriche, cioè non ci interessa avere migliaia di follower se questi follower non stanno accanto a noi. Magari stanno lì dentro solo per insultarci, non è il caso, diciamo, dell'istituto. Però, no, nel momento in cui noi cominciamo ad abitare sempre di più lo spazio digitale e abitiamo degli spazi digitali nuovi, penso al lavoro che Istat sta facendo su Instagram, e lo sta facendo più che correttamente, no? L'utilizzo del giovedì con le foto in bianco e nero, no? Nella logica che quel social network richiede, adesso dobbiamo provare a fare un passaggio ulteriore. Cioè quello di, ripeto, provare ad aprire un negoziato in cui da una parte ci sono le esigenze della scienza e dall'altra ci sono le emozioni. Dico questo in un campo che è un campo molto complicato, perché nella statistica ci stanno i numeri, non c'è molto altro, però io dico la stessa cosa in un ambito nel quale lavoro, che è quello della medicina, lavoro in un ospedale, sono consulente per un ospedale, e credo che anche i medici talvolta debbano fare, diciamo, dei passi avanti per andare incontro alle persone. Cioè non basta dire che questa è un'evidenza scientifica dal punto di vista clinico per convincere le persone, perché le persone mettono in campo le proprie paure, mettono in campo i propri timori, e se tu rispondi a uno che ti parla in cinese, rispondendogli in tedesco, perché di questo si tratta, se io ti dico che ho paura e tu mi dici che gli esiti avversi sono uno su un milione, ovvero la morte è una su un milione, io penso che quell'uno tocca a me. Allora, ritornando alla statistica, mi rendo conto di quanto possa essere complicato, però probabilmente questo è uno dei fronti da aprire. Io non so in che maniera questo possa essere fatto, però proviamo a interrogarci e su questo terreno credo che poi siano gli specialisti che debbano venire incontro ai comunicatori. Cioè sono gli specialisti, gli statistici nella fattispecie, che devono farci capire fino a che punto noi ci possiamo spingere nel raccontare qualche cosa. perché così come l'Istat risponde alla giusta grammatica comunicativa di Instagram, mettendo delle foto straordinarie dell'Istituto negli anni 50, dei primi censimenti, allo stesso modo noi dobbiamo poter comunicare dei contenuti statistici di valore utilizzando una chiave emozionale che bypassa il lato razionale. Spero di aver semirisposto in qualche maniera. Grazie. Allora, in qualche modo, quello che ha detto Nicola mi ha suggerito, come dire, di fare una domanda a Francesco diversa da quella che avevo pensato prima. Ed è questa. Cioè, in realtà, una pubblica amministrazione, diceva Nicola, poi ci sta la parte appunto di emozione, eccetera, ma qual è il trade-off fra il linguaggio di una pubblica amministrazione e il linguaggio istituzionale, diciamo, e quello che è il linguaggio del social. Perché, secondo me, è trovare proprio questo trade-off che è importante. Perché, in qualche modo, insomma, io che mi occupo di comunicazione da tantissimi anni, di comunicazione statistica anche da tanti anni, devo dire che, insomma, questa ricerca del trade-off fra mantenere il rigore dell'informazione scientifica, adeguarmi al mezzo sul quale io sto comunicando e, in qualche modo, essere anche appealing, è una ricerca continua, è un equilibrio, come dire, diciamo, non semplice da trovare. Tu pensi, sinceramente, che noi comunicatori pubblici, in qualche modo, noi comunicatori pubblici sui social, dobbiamo, in qualche modo, come dire, entrare totalmente nel linguaggio oppure possiamo anche educare un po' i social a quello che è il linguaggio o è l'informazione di un'istituzione e un'amministrazione pubblica? Allora, io ti dico la prima che hai detto, nel senso che credo sia dura, soprattutto anche perché, come si diceva prima, veniamo da un periodo di rincorsa, no? Cioè che l'APA si è, come dire, adeguata dopo che i cittadini già erano parecchio avanti e quindi già chiedevano che l'APA stesse su questi strumenti. Quindi la vedo, onestamente, molto dura di educare come comunicatori pubblici i social network all'utilizzo di un linguaggio istituzionale o, tra virgolette, anche senza virgolette, burocratico in molti casi. No, no, la domanda era... Mi basta trovare un buon equilibrio. Diciamo, la vittoria 3 a 0 è difficile, però... e, tra l'altro, questa è un'opinione mia personale, quindi non è un consiglio, è proprio un'opinione mia personale se l'APA usa ogni tanto un emoticon o, come dire, i tanti linguaggi possibili anche nelle funzionalità, dalle GIF a tante altre cose, io credo che faccia un buon lavoro perché poi tutti noi nel privato usiamo questi strumenti parlandosi così, diciamo. Quindi, se l'APA parla un po' di più come i cittadini su questi strumenti, non credo che faccia male. Dopodiché è ovvio che va mantenuto anche il tono istituzionale che, come dire, serve a una pubblica amministrazione anche per mantenere la sua autorevolezza e tornando anche alla fiducia che si diceva prima per essere un punto di riferimento fondamentale anche su questi strumenti. Però, per esserlo, dobbiamo anche dimostrare di saperli usare e quindi, se su Instagram funzionano certe cose, per funzionano, intendo non solo perché ti arrivano tanti mi piace, ma perché le persone che stanno lì parlano così. È come andare in Inghilterra e voler parlare spagnolo per forza. Quindi, cioè, e poi ogni social ha il suo linguaggio. Quindi su Facebook è in un modo, su Twitter è in un altro, su Instagram ancora un altro, in chat un altro ancora, sulle varie chat, poi abbiamo Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger. Ora c'è tutto il discorso anche sull'intelligenza artificiale, quindi anche su un rapporto con un automatismo, il mix tra bot e umano. Insomma, ce ne sono veramente tante di possibilità. Io credo che la Pia si debba adeguare ai linguaggi e metterci un po' del suo, come facciamo tutti, anche extra pubblica amministrazione. All'Ista ti chiediamo sempre misure, in qualche modo, almeno approssimate se non certe. Allora, tornando invece a Vincenzo. Vincenzo, io sono molto affascinato al fatto perché penso che tu con tutti questi anni di lavoro sai quello che pensano gli utenti, sai come influenzarli, sai chi sono gli stakeholder, per cui sono totalmente attratta da questa cosa. Perciò ti faccio anche a te un domandone, ma anche perché secondo me, sulle domande eccessive, poi un pezzetto, come dire, di sollecitazione per fare uno spostamento, a volte viene fuori. Ed è questo. Secondo te, rispetto allo studio che hai tu, che hai la conoscenza della rete, prima degli utenti, degli influencer, eccetera, ma cosa si aspettano questi signori da un istituto nazionale di statistica come contenuti che deve veicolare in rete? Beh, io penso si aspettino, questa è una richiesta che è trasversale in vari settori, perché poi ovviamente bisognerebbe fare delle analisi. Perché vedo tutte consulenze gradi. Delle analisi. Esatto. Ovviamente le analisi vanno fatte settore per settore, ma una cosa che ho notato un po' trasversale in vari settori è che, a differenza di quello che si potrebbe pensare, poi le persone ovviamente cercano relazioni in rete, cercano empatie in rete, e questo sicuramente sì, ma cercano anche informazioni. È vero che c'è una quota di persone che cerca più che delle risposte la conferma a, diciamo, sicuramente a delle convinzioni che ha e quelle convinzioni magari sono dure da far crollare, però la ricerca di informazione è molto forte. Quindi dall'Istat sicuramente si aspettano informazione solida, ovviamente veicolata, come diceva Francesco, nelle forme più proprie di questi social network, ma la forma in questo caso, diciamo che non serve a sminuire il contenuto, ma serve a, come dire, a ottenere un minimo di visibilità. E rete tutti, dall'Istat a GQ, concorrono nello stesso momento per l'attenzione, un briciolo di attenzione degli utenti. E quindi è chiaro che se io un attimo prima ho visto un contenuto affascinante di una rivista patinata o di un mio amico, e l'attimo dopo invece ho visto un dato, un numero, ma posto in maniera, diciamo, molto secca, o comunque, diciamo, in maniera, se volete, un po' vecchio stile, da slide, è chiaro che non mi soffermerò, quindi avrò perso la battaglia per l'attenzione dell'utente. Ma oggi è anche abbastanza semplice riuscire a trasformare il dato in qualcosa che susciti dell'emozione. Voi fate anche lo splendido lavoro con i colori, il colore è uno di quegli elementi a cui magari si pensa poco, ma che subito cattura l'attenzione. Il dato, probabilmente non è necessario fare come vedo spesso fare, riempire una fotografia di dieci dati, ma magari fare dieci post con dieci dati diversi e legarli tra di loro. Cioè sono piccole azioni, piccoli modi di trasformare il dato che potrebbero subito immediatamente catturare l'attenzione e che non vanno a detrimento della solidità della forza dello stesso. Quindi secondo me un lavoro di questo tipo sicuramente è alla portata. L'altro dato, l'altra sollecitazione che volevo dare è che occupandomi ora molto dell'influencer della rete è fondamentale che prendiamo coscienza del fatto che almeno il 60% delle persone, degli italiani, ma è un dato che mediamente corrisponde un po' anche negli altri paesi, secondo una ricerca di Edelman, il Trust Barometer, famosa ricerca, il 60% dicevo, delle persone si fidano in rete di pari, di persone che come loro dicono qualcosa. Questo può essere chiaramente un pericolo, ma può essere anche una grande opportunità, nel senso che bisogna riuscire a individuare in rete, a convincere in rete ad attirare l'attenzione in rete di persone comuni che a loro volta saranno degli ottimi veicoli di informazione. Quindi non è necessario riuscire a comunicare perfettamente solamente al giornalista, ma un'attenzione particolare secondo me va data anche a questi nuovi influencer della rete che raccolgono attorno a loro un pubblico significativo e che possono essere coinvolti nella comunicazione come alleati proprio in questo caso magari dell'Istat della comunicazione pubblica. Alleati secondo me è una parola chiave, una cosa a cui tendere. Grazie, mi sento molto rassicurata perché sono un po' di queste cose che hai detto e stiamo facendo questo mi solleva un pochino. a Nicola un'ultima domanda e voglio parlare un po' di una domanda che è tratta un po' dal tuo libro. Nicola ha scritto questo libro manuale di disobbedienza digitale che è interessante perché si capisce perfettamente che è il frutto di un'ossessione, un frutto di un'esigenza interiore per cui come tutti i libri che nascono così da qualche parte poi arrivano proprio perché hanno avuto questo tipo di nascita. mi so appuntata perché volevo farti una domanda precisa. Nel tuo libro tu suggerisci cento regole per essere stravolti o per un essere stravolti o snaturati nei nostri comportamenti e altre dimensioni della vita quotidiana dagli algoritmi li scrivi proprio così e dalle tecnologie create dalle techno corporation. la prima forma di disobbedienza digitale tu scrivi è la consapevolezza digitale. Allora quello che ti posso dire questo che ti voglio chiedere è questo pensi che un uso corretto dei social dal parte delle istituzioni pubbliche non possa proprio servire anche a diffondere questa consapevolezza o noi non possiamo fare niente per questa diciamo come dire traguardo che tu auspichi e che comunque dici che poi è comunque un modo per fuggire non è un punto d'arrivo è una porta di uscita se ho capito bene se no ci spieghi meglio quello che volevi dire se non l'ho spiegato bene è colpa mia ovviamente posso non aver capito bene io va beh nel libro quelle regole sono regole di disobbedienza ideali perché l'unico modo per fuggire diciamo così la dittatura degli algoritmi è andarsene in una baita in montagna nemmeno dai social proprio spegnere il telefono non avere nemmeno un Nokia uno start-up di antiche memorie diciamo così bisogna uscire completamente dalla società digitale che è una cosa che non possiamo più fare per me era ovviamente pretestuoso rispetto a un'esigenza che era quella di invitare chi che poi mi ha letto mi sta leggendo a riflettere su quello che le persone fanno all'interno dello spazio digitale e per rispondere alla tua domanda io credo che tanto possono fare le istituzioni ieri qui avete avuto Walter quattro ciocchi e Walter ci ha insegnato a tutti diciamo così che in alcuni casi il debunking non funziona perché polarizza perché non convinci nessuno dall'altra parte quindi quali sono le possibili vie d'uscita una prima secondo me via d'uscita che come dire smentisco immediatamente perché poi avendo scritto quel libro non dovrei dirlo però lo dico a Francesco è che nell'agenda pubblica italiana noi dobbiamo consentire ahimè alle amministrazioni di poter spendere dei soldi in advertising sui social network senza particolari problemi perché questo è un fatto diciamo così che ha a che fare con la natura dei social network i social network sono anche delle aziende ed essendo delle aziende diciamo così campano di pubblicità e se un'istituzione sta dentro un'azienda che campa di pubblicità deve poter fare facilmente non diciamo in maniera complicata perché poi l'amministrazione pubblica è molto semplice dice sì ma c'è una norma che lo prevede dopodiché devi fare una gara europea sei mesi sappiamo come funziona no tu devi poter accedere con facilità alle funzioni di advertising per i social network spendere somme eque io credo perché sono somme che arrivano dal contribuente però sono quelle somme che consentono diciamo così almeno una visibilità cioè rispondono a un'esigenza quantitativa però secondo me questo non esaurisce diciamo così altre due invece esigenze la prima è quella di dare risposte mirate ai cittadini cioè il cittadino ormai ha una pluralità di punti di contatto con la pubblica amministrazione e li usa tutti perché così il cittadino è educato quando è consumatore a rapportarsi per esempio alle grandi aziende io posso scrivere a fast web un messaggio diretto su twitter un commento su facebook su messenger c'è n modalità quindi la prima esigenza delle amministrazioni è quella di strutturare diciamo così un piano che nelle aziende del crm di crm con i cittadini rispetto ai servizi che l'amministrazione offre dal momento che non vende prodotti no? e quindi lì dentro dare risposte che invece sono risposte puntuali individuali personali dall'altro fare invece quello che ci ha raccontato Vincenzo cioè immaginare di costruire una comunicazione che è una comunicazione che crea una comunità di influencer non influencer cioè di influencer che ancora non lo sono di ambasciatori di alleati chiamiamoli come vogliamo di fare quello che Barack Obama Patrizia mi ha detto che non lo dovevo citare perché abbiamo Trump però che Barack Obama fece nel lontano 2008 quando lui aprì la sua pagina Facebook la pagina Facebook di Obama non era una pagina Facebook che aveva come obiettivo quello di convincere gli americani attraverso Facebook della bontà del candidato Obama era uno spazio in cui chi era già democratico trovava una sorta di cassetta degli attrezzi politica digitale con strumenti idee informazioni contenuti notizie che gli servivano poi nella propria vita uscendo come dire dall'imbuto algoritmico per andare a convincere il vicino di casa che avrebbe votato il candidato repubblicano bene io credo che si possa immaginare una cosa del genere cioè in alcuni social network non è il caso di Twitter però provare a ragionare sul fatto che sia possibile consegnare a questi alleati una cassetta degli attrezzi per la statistica LinkedIn da questo punto di vista LinkedIn lo fa già quello che stiamo facendo noi su LinkedIn però che a me cittadino che sto dalla parte diciamo così del fatto verificato che sto dalla parte dell'informazione statistica ufficiale che sto dalla parte di un'istituzione poi quando sto a cena sto nel luogo di lavoro a scuola dove sto quella cassetta degli attrezzi digitali io la apro e convinco il mio vicino di casa che quello che lui sta dicendo è una bufala per dirne una ma fuori dallo spazio digitale e in una relazione a quattro occhi no? posso sbontare altrimenti se noi pensiamo che le persone questa roba la fanno perché come diceva anche sempre molto bene Vincenzo la comunicazione dall'alto è calata e scende e discende perché il verbo non gliene frega niente a nessuno no? Allora noi dobbiamo creare delle comunità e queste comunità di persone ci devono aiutare e come fai a farti aiutare? Uno se gli dai degli strumenti due se gli dai una missione Facebook che è l'algoritmo madre ormai è diventato un imbuto in cui le pagine o pagano o non esistono ok? E se vale per Facebook vale di conseguenza anche per Instagram Vincenzo correggimi se sbaglio a quel punto io ci sto ma nessuno mi vede allora io invece ci devo stare e devo consentire a quelli che stanno con me di fare questo lavoro nei loro profili personali uscendo appunto dall'imbuto algoritmico perché è vero che abbiamo detto che bisogna metterci dei soldi però i soldi non sono infiniti e quindi bisogna consentire alle persone di stare al nostro fianco dandovi da un lato strumenti come ho detto e dall'altro una missione che è quella di dire voi state accanto a noi siete i nostri alleati grazie Nicola siamo stati perfettamente nei tempi devo dire una cosa che da tutto i discorsi che ho ascoltato a me è venuto in mente una cosa non è che una via d'uscita guardo lui perché lui deve darci la mano per farla eccetera è come dire ma questo non assomiglia un po' al brand del giornalismo che potrebbe diventare invece brand institutional o qualcosa del genere questa potrebbe essere una soluzione? al volo voi vi do il microfono sicuramente sì insomma anzi su questo noi ci stiamo provando magari non dandogli questo nome ma insomma ci stiamo lavorando e quindi come dire da parte dell'associazione grande disponibilità a farlo insieme e a proseguire su questa strada sì ovviamente anche le istituzioni questo forse non lo fanno ma si devono ripensare come brand e anche come media come media company che è una cosa che sembra un po' diciamo lontana dal loro mondo però in effetti sempre più dovrebbe essere così ma Nicola qui no l'idea è quella di creare all'interno degli uffici comunicazione delle istituzioni degli hub di produzione di contenuti che a partire per esempio dal comunicato stampa no poi vengano declinati in contenuti devo dire l'istat questo lo fa sui vari canali nei vari social network e trattare diciamo l'atomo comunicato stampa un po' passatemi la metafora come il maiale cioè viene tagliato non si butta via niente un'infografica la mettiamo da una parte un video lo mettiamo da un'altra un punto elenco e lo mettiamo da un'altra ancora allora grazie è stato veramente un incontro interessante spero anche per i nostri partecipanti e grazie per essere venuti grazie mille